Sono arrivati a destinazione a Chianciano nella tarda serata di martedì i 38 ragazzi della parrocchia di Abbiate in provincia di Como rimasti coinvolti nello scontro avvenuto martedì pomeriggio a Calbenzano nel comune di Subbiano tra un pullman nel quale viaggiavano un furgone e quattro auto. Nello schianto è rimasto ferito gravemente un uomo di 43 anni alla guida del furgone, meno gravi invece gli altri quattro conducenti ed infine solo qualche contusione per i ragazzi. Il comune di Subbiano è intervenuto immediatamente con le procedure di emergenza del caso. L'amministrazione comunale ha infatti organizzato un punto di ristoro e di raccolta per chi non aveva bisogno delle cure dei sanitari e ha fornito l'assistenza necessaria al gruppo dei ragazzi mettendo a disposizione un pullman che verso le 22 ha raccolto i partecipanti alla gita compresi quelli dimessi dagli ospedali di Arezzo e Bibiena e li ha accompagnati a Chianciano. Nella tarda serata di martedì inoltre il traffico è tornato alla normalità anche sulla strada regionale 71 dopo alcune ore di interruzione alla viabilità.